La frana del Ruinon rallenta, sollievo a Valfurva, riaperta dopo 24 ore la strada provinciale del Passo Gavia. Santa Caterina di nuovo raggiungibile. Bellotti urge installare il semaforo collegato ai radar. Dalla prossima settimana cadono le ultime restrizioni. La Svizzera riapre i valichi di confine, tornano transitabili a tutti, Piatta Mala, Castasegna, Forcola, Spluga e Umbrail. Riparte il trenino rosso. Brutta disavventura per una donna valtellinese, acquista un'auto ed effettua il pagamento online, ma i 40.000 euro non vanno alla concessionaria bensì ai truffatori, che è un'altra cosa. avevano sostituito Mail e Iban. Si riaccende il dibattito sulla presenza dell'orso sui monti della Valtellina. A Grosio il predatore scende a basse quote. I proprietari di bestiame hanno paura. Il sindaco alla provincia urge intervenire. Buonasera dal telegiornale di Unica Sondrio. Sospiro di sollievo per la Val Furva. Da stamane infatti è riaperta la strada provinciale 29 del Passo Gavia, che ieri era stata chiusa per una sensibile accelerazione del dissesto sul corpo frana del Ruinon, probabilmente innescata dalle piogge e dal rialzo delle temperature. Oggi la sala operativa della protezione civile regionale ha segnalato il rientro della soglia radar di elevata criticità, quella prevista nello scenario più critico, scesa a livello di moderata criticità. Il movimento della frana, rilevato di circa 90 cm in un giorno, è notevolmente rallentato. La provincia di Sondrio ha potuto così emettere l'ordinanza di revoca della chiusura disposta ieri in base ai criteri della procedura di intervento stabilito dal piano di emergenza della frana del Ruinon. Il tratto della SP29, di circa 6 km tra le frazioni di Sant'Antonio e Santa Caterina Val Furva, dunque è tornato transitabile permettendo di collegare la località turistica al resto della Valtellina, mentre ieri la stessa era raggiungibile solo dal versante Bresciano del Passo Gavia. Urge attivare al più presto, dice il vice sindaco di Val Furva Luca Bellotti, l'impianto semaforico collegato ad un sofisticato sistema radar per rilevare i movimenti franosi. L'installazione dovrebbe essere completata nella prima settimana di luglio. In arrivo un'altra settimana importante nel graduale percorso verso la normalità che interessa da vicino la provincia di Sondrio. Lunedì la Svizzera riapre i confini facendo cadere ogni restrizione. Libero accesso ai valichi doganali, tornano transitabili i passi alpini che causa coronavirus avevano prolungato la chiusura invernale. Riprende il trenino rosso. Dal 15 giugno la Svizzera riapre i confini con l'Italia. Dalla mezzanotte di lunedì cadono dunque tutti i limiti agli spostamenti dal nostro paese verso la Confederazione, che è parte dell'area Schengen di libera circolazione. L'attenuarsi dell'emergenza sanitaria negli stati confinanti ha indotto così le autorità di Berna, in particolare il Consiglio federale elvetico, a rimuovere le restrizioni all'ingresso nel territorio nazionale, finora consentito solo a lavoratori frontalieri e a titolari di permessi per attività economico-commerciale. Da lunedì niente più controlli specifici alle frontiere, se non quelli ordinari di polizia. Una novità importante per il territorio della provincia di Sondrio, da sempre unita al cantone dei Grigioni, da un'intensa rete di scambi e comunanza di interessi. Molti i valtellinesi infatti proprietari di case oltre confine. Da lunedì tornano liberamente transitabili, anche per turismo o ogni altra esigenza, i valichi di confine di Piatta Mala a Tirano, verso la Val Poschiavo, e di Castasegna a Villa di Chiavenna, verso la Val Bregaglia, parte della regione Maloia. Riaprono anche il passo dello Spluga, il passo dell'Umbrai, la Santa Maria allo Stelvio e la Forcola verso Livigno, che così non sarà collegata alla Valtellina solo attraverso il passo del Foscagno. Il comune dell'Alta Valle aveva già riaperto il tratto di strada di propria competenza fino al passo. La revoca da parte della Svizzera della chiusura del tratto fino alla località La Motta permette ora il transito in territorio elvetico, con limitazione a veicoli, aventi massa totale non superiore a 180 quintali. Riprendono anche le gite sul trenino rosso del Bernina. La ferrovia retica, infatti, dalla prossima settimana ripristina il trasporto turistico anche nell'ultimo tratto tra Campo Cologno e Tirano. Per la città dell'Adda una boccata d'ossigeno importante che riattiva un prezioso canale di afflusso turistico, così come anche dall'Italia riprendono le prenotazioni. Dal 27 giugno torna in funzione anche il Bernina Express Bus tra Tirano e Lugano. E da lunedì in Lombardia riapriranno i centri estivi per bambini e adolescenti da 0 a 17 anni, i cinema, i teatri, le sale giochi, consentite le sagre locali. Queste le novità più significative introdotte dalla nuova ordinanza firmata dal presidente Attilio Fontana e valida fino al 30 giugno, che attraverso specifiche linee guida disciplina le modalità di ripresa di questi settori. Il provvedimento conferma che su tutto il territorio regionale permane l'obbligo all'aperto di portare la mascherina o altri indumenti utili a coprire naso e bocca, con eccezione per chi pratica attività sportiva intensa. Sul lavoro resta obbligatoria la misurazione della temperatura per titolari e dipendenti, così come per i clienti dei ristoranti. Per i centri estivi è sufficiente la comunicazione dell'avvio di attività a comuni e a TS. Sono consentiti eventi e competizioni sportive senza pubblico, ad eccezione delle discipline di contatto per le quali occorrerà aspettare fino al 25 giugno, come previsto dall'ultimo decreto della Presidenza del Consiglio, che per ora mantiene lo stop anche alle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, nonché a fiere e congressi. Attenzione alle compravendite online, soprattutto se sono di grande valore, e alla sicurezza dei pagamenti in rete. La truffa informatica è sempre in agguato, criminali della rete sono pronti a inserirsi nelle transazioni elettroniche, distraendo forti somme, come amaramente sperimentato da una signora valtellinese. Effettua un bonifico online di ben 40.000 euro per l'acquisto di un'auto usata, ma di notevole pregio, e amaramente poi si accorge che quel pagamento non è andato a beneficio del destinatario previsto, ovvero la concessionaria di auto a cui si era rivolta. È la brutta disavventura capitata di recente ad una donna residente in provincia di Sondrio, rivoltasi ieri agli uffici della Questura per denunciare di essere stata vittima di un episodio di frode informatica. Secondo quanto riferito alla polizia, la signora nel mese di maggio aveva stipulato il contratto d'acquisto di un'auto di seconda mano da una nota concessionaria valtellinese. Non un'operazione effettuata attraverso grandi portali di compravendita online, ma partita dal contatto diretto con un venditore locale. A seguito di accordi con quest'ultimo, avvenuti tramite e-mail, l'acquirente ha effettuato un primo bonifico di 1.000 euro a titolo di caparra. In seguito, dopo aver ricevuto un'ulteriore comunicazione proveniente da un indirizzo di posta elettronica, all'apparenza molto simile a quello reale del venditore, la donna procedeva a saldare il pagamento pari all'intero prezzo di vendita dell'automobile, effettuando un secondo bonifico di 40.000 euro come pattuito. Solo nei giorni scorsi però la malcapitata si accorgeva di essere stata vittima della truffa informatica. Contattato il venditore per ultimare le operazioni di ritiro dell'auto acquistata, la donna infatti apprendeva che questo, evidentemente del tutto ignaro del raggiro ordito ai danni della cliente, aveva ricevuto la sola distinta del pagamento, non anche il cospicuo importo concordato di 40.000 euro. Dai primi accertamenti effettuati dagli esperti della Polizia Postale è emerso verosimilmente che i truffatori entrati nella casella di posta elettronica della donna avrebbero sostituito l'Iban del beneficiario, ovvero la concessionaria, indicandone un altro con un'email molto simile a quella utilizzata dal venditore d'auto. Piccole e impercettibili modifiche di mail e di coordinate bancarie sfuggite alla donna, che credendo alla veridicità delle indicazioni ricevute ha finito invece per fare l'accredito della somma non come pensava alla concessionaria, ma ai delinquenti. Di qui la rinnovata esortazione da parte della Polizia di Stato. Prestate massima attenzione alle operazioni di compravendita online. Utilizzate software e browser completi e aggiornati, in quanto il primo passo per acquistare in sicurezza è sempre avere un buon antivirus aggiornato all'ultima versione sul proprio dispositivo informatico utilizzato per questo tipo di transazioni. Ha riportato la frattura ad uno zigomo, la rottura di un dente e qualche botta, ma fortunatamente nessun danno cerebrale, Alessio Martinelli, il ciclista 19enne della Val di Dentro, vittima ieri di una brutta caduta durante un allenamento lungo la strada Cancano-Solena, dove ha perso il controllo della bici cadendo rovinosamente a terra e riportando un forte trauma facciale. Il giovane valtellinese portacolori del team Colpac, medaglia d'argento l'anno scorso ai campionati mondiali juniores su strada, è stato trasportato con l'elicottero del 118 all'ospedale di Brescia, dove tra lunedì e martedì sarà sottoposto ad intervento per ricomporre la frattura. La situazione oggi è meno drammatica di quanto era apparsa subito, dichiara il padre Fulvio. La TAC e altri esami hanno escluso altre lesioni. Alessio sta bene, anche se un po' provato dall'incidente. Inoltre, aiutato dal fratello, sta ultimando la preparazione in vista dell'esame di maturità all'Istituto Pinchetti di Tirano. Sarà inserito in coda per avere più tempo per riprendersi. Da tutti noi dunque in bocca al lupo e doppi auguri di pronta guarigione al giovane campione valtellinese. Economia, turismo e commercio, nonostante la fine del lockdown, vivono una condizione difficile. I consumi sono calati, Confcommercio studia le strategie per il rilancio e già si guarda alla maxistagione dei salvi estivi. Ripartenza è in salita per commercianti e ristoratori. L'analisi di Enzo Ceciliani, direttore di Confcommercio Sondrio, parla chiaro. L'emergenza coronavirus non solo ha messo in ginocchio tante attività chiuse per tre mesi a causa del lockdown, ma continua ad avere effetti preoccupanti sulle vendite. Importante ma non decisiva, precisa Ceciliani, la maxistagione dei salvi al via effettivamente il primo agosto, preceduta da un mese di vendite promozionali già dal primo luglio. Il consumo non è ancora ritornato alle medie pre-covid, ci sono parecchi fattori che lo stanno tenendo sotto, sicuramente il timore del contagio c'è, è anche abbastanza forte nella gente e c'è forse anche un po' di astinenza da spinta consumistica. Sono due fattori, in questo periodo la gente è stata bombardata non dalla pubblicità di andare a comprare, la pubblicità quella vera è stata quella di restare a casa. Chiaro che questo ha molto influito sui comportamenti e per cambiare servirà molto tempo. Indispensabile rispettare le misure anti-covid, precisa Ceciliani, ma bisogna tornare a vivere e a respirare normalità, quella che purtroppo al momento ancora manca. Quel che mi sento di poter dire è che bisogna ritornare a una sostanziale fiducia nel vivere, se si ritorna con fiducia a vivere nella normalità si ritornerà anche a consumare, quindi diciamo così far vivere i negozi, far vivere i ristoranti che stanno soffrendo parecchio. Cosa può cambiare con la maxi stagione dei saldi? I saldi di oggi sono più i saldi di 10-15 anni fa e quindi la possibilità di fare delle promozioni è comunque una cosa positiva, potranno gestirsi un po' meglio gli operatori nei confronti del consumatore, è una cosa positiva ma non così fondamentale. Direttore come vede i prossimi mesi? Allora io sono sostanzialmente positivo, perché vedo che comunque la voglia di ricominciare a vivere, la voglia di lavorare, quella di consumare c'è. Siamo un po' frenati, però poco alla volta questo freno ce lo toglieremo. Anche rispetto al turismo non sono così negativo in generale, ci sono delle previsioni più o meno positive, ma la statistica in questi momenti e le previsioni non sono poi sempre così affidabili, l'abbiamo visto parecchie volte. La prossimità a Lombarda per noi è importantissima e sono convinto che ci darà una grande mano. Cambierà il modo di lavorare, non ci sarà più un lavoro nei prossimi mesi come quello che abbiamo vissuto l'anno scorso. Sarà diverso, ma i nostri operatori sono molto flessibili, sono molto attenti e quindi sanno confezionare il prodotto a secondo del momento del bisogno della clientela. Quindi speriamo in bene. Al via in provincia di Sondrio il nuovo servizio di poste italiane per la richiesta online delle pratiche di successione, 31 gli uffici postali abilitati. La modalità semplificata riduce disagi e tempi di rilascio per ottenere la dichiarazione di credito necessaria per presentare la dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate si può operare dal PC collegandosi al sito www.poste.it nella sezione Servizi al cittadino. Una volta ricevuta la dichiarazione di credito, l'erede o il soggetto legittimato si recherà nell'ufficio postale selezionato per la domanda di successione insieme ai documenti originali. A Grosio c'è forte preoccupazione per la presenza dell'Orso che in questi giorni ha razziato diversi capi di bestiame. La gente ha paura, dice il sindaco, che chiede alla provincia di intervenire con urgenza. Un problema certo destinato a riaccendere il dibattito sulla convivenza tra l'uomo e i predatori. Il pastore richiama le pecore nel recinto, troppa la paura dell'orso che in questi giorni ha fatto la sua comparsa sui monti di Grosio sbranando cinque capi. Così la gente che ha seconde case e baite e ama il proprio bestiame preferisce metterlo in sicurezza nelle stalle in paese e riportarlo a pascolare quando sarà passata la bufera. Ciao, ciao tutta bella, ciao, ciao. La scorsa notte l'orso, forse un giovane esemplare sconfinato dall'adamello, ha fatto una nuova incursione sul versante aerobico Grosino. L'animale, stavolta riferisce il sindaco, non avrebbe attaccato altre bestie ma guidato dal grande fiuto avrebbe dissotterrato in località Irola a due carcasse delle stesse pecore predate nei giorni scorsi. A preoccupare ora è la quota bassa alla quale il plantigrado è sceso, 1200 metri, con la presenza di case, baite e agriturismi. Mi chiamano a tutte le ore, dice il primo cittadino esasperato, l'orso fa paura. Personalmente posso anche in linea di massima condividere gli animalisti che proteggono questo tipo di animale. Ma purtroppo, prima di tutto, dobbiamo tutelare i nostri cittadini e anche loro animali. Qualcuno mi deve spiegare il perché. Se un osso uccide delle pecore o asini bisogna subire la situazione e se invece qualcuno parla solo di allontanarlo, si va sui giornali e si viene ditati come nemici degli animali. L'orso, aggiunge Pini, ha bisogno dei suoi spazi, deve stare lontano da case, persone o bestiame senza fare danno. Nessuno pensa ai proprietari degli animali abbattuti che devono, tutta la parte burocratica, dovevano smaltire le carcasse, compulare i moduli, parlare con la forestale, con i veterinari, perdere tempo e oltretutto non sanno nemmeno se saranno rimborsati economicamente di questo danno subito. Cani, pecore o asini. I proprietari si affezionano ai loro animali. Chi li risarcisce di questa perdita? Chiedo alla provincia, che l'ente ha detto di questo progetto, se non è ora di cambiare le regole. Prima che succeda qualcosa di irreparabile, perché oggi l'osso è stato avvistato molto in basso e le persone sono molto preoccupate e hanno paura solo ad entrarsi nei boschi per cercare funghi. Parliamo ora di scuola. Valtellina protagonista del programma Rai La Scuola in TV, ciclo di lezioni realizzato dalla TV di Stato in collaborazione col Ministero dell'Istruzione. Tra gli insegnanti selezionati in tutta Italia figura Luca Curtoni, professore di Scienze Umane e Filosofia al Liceo Piazzi Perpenti di Sondrio, che ha tenuto due video lezioni di pedagogia e filosofia rispettivamente per studenti del terzo e del quinto anno. Fabio Molinari, dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale, coglie spunto per elogiare tutti i docenti che in questi mesi si sono messi in gioco sperimentando con creatività nuove forme di insegnamento. Anche quest'anno il Comune di Tirano mette in palio 12 borse di studio a favore di ragazzi meritevoli per premiare il profitto scolastico e incoraggiare la prosecuzione degli studi. 5 le borse di studio del valore di 300 euro destinate ad alunni di prima superiore per i risultati conseguiti all'esame di terza media, 7 da 500 euro a matricole universitarie per il voto conseguito all'esame di maturità. La graduatoria terrà conto del voto e della condizione economica familiare. Domande da presentare entro le 12 e 15 del 17 luglio all'Ufficio Protocollo del Comune, previo appuntamento oppure tramite raccomandata o PEC. Informazioni e modulo sul sito www.comune.tirano.so.it. Un'estate in montagna sarà così anche per molti di noi e le strutture ricettive si stanno attrezzando per accogliere i turisti, anche quelle in quota nei rifugi alpini. Infatti sono entrate in vigore le nuove regole anticontagio che la regione ha condiviso con il CAI e con l'Associazione dei Rifugisti. Vediamo. Saranno in molti a scegliere la montagna nell'estate 2020 e i rifugi si stanno attrezzando. All'ingresso deve essere collocato un dispenser con disinfettante per le mani. Il gestore all'interno dell'area dovrà invitare gli ospiti all'utilizzo delle mascherine, a rispetto della distanza di almeno un metro. Ed obbligo usarla a tovaglietta a monouso oppure tovaglie cambiate a ogni utilizzo sottoposte a pulizia e disinfezione. Si deve anche procedere alla disinfezione del tavolo e delle sedute prima del riutilizzo dei posti. Viene effettuato solo servizio al tavolo salvo vendita da sporto. Una parte dei posti a sedere esterni riservata alla ristorazione prenotata. Dove è possibile, nelle aree esterne al rifugio, deve essere prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, ad accesso limitato. L'entrata in rifugio è contingentata in base al numero di persone previsto. Il pernottamento e l'erogazione dei pasti possono essere forniti preferibilmente su prenotazione e comunque deve essere tenuta a registrazione per almeno 14 giorni delle presenze, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. All'ingresso dell'area notte deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante. Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con copri materasso in tessuto lavabile, set monouso composto da copri materasso e copri federa monouso. In tal caso obbligatorio l'utilizzo del sacco a pelo o sacco lenzuolo personale. Se il rifugio utilizza invece biancheria in tessuto da cambiare ogni uso e da lavare a 90 gradi, non è necessario il copri materasso o il copri federa monouso. Nelle camere, salvo in caso di presenza di un unico nucleo di persone, deve essere garantito il distanziamento sociale. Si suggerisce quando svegli l'utilizzo della mascherina o di qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca. Nella nuova ordinanza di regione Lombardia, firmata dal presidente Fontana, spiega l'assessore regionale della montagna Massimo Sertori, abbiamo inserito le misure precauzionali da assumere da parte dei proprietari di rifugi lombardi dei loro fruitori. Abbiamo voluto recepire tutte le osservazioni assolutamente di buonsenso avanzate da Assurifugi e Cailombardia per andare in conto alle esigenze di queste strutture e permetterne una fruizione in totale sicurezza. Un'ottima notizia per la montagna lombarda che ha una grande voglia di ripartire. Si chiama Il Libro di Oggi e la nuova iniziativa lanciata dalla biblioteca Luigi Credaro della Banca Popolare di Sondrio per invitare alla lettura di un volume di interesse agli iscritti inseriti nella newsletter. Viene segnalata la recensione sintetica del libro e allegato il link al catalogo da cui si può prenotare il prestito. L'ultima proposta è I Diavoli, romanzo autobiografico di Guido Maria Brera, imprenditore e scrittore ambientato nella Londra dell'alta finanza. Mentre i servizi di prestito e consulenza bibliografica sono ripartiti, la Credaro informa che al momento la consultazione in sede è ancora sospesa. Con questa notizia si chiude l'edizione odierna del nostro telegiornale. Come sempre vi ricordo che potete seguire i programmi di Teleunica sui canali 12 e 193 del Digitale Terrestre. Ci trovate anche sulle nostre pagine dei social YouTube e Facebook e sul nostro portale www.teleunica.com. Grazie per averci seguito, buona serata e buona domenica.